E occupiamoci adesso di politica perché ieri è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste, quindi dei candidati per la corsa alle elezioni amministrative. Tra i comuni chiamati alle urne c'è anche quello di Pescara dove la corsa è a quattro, tra il sindaco uscente Masci, che sarà sfidato da Costantini, Fusilli e Pettinari. E a proposito del candidato sindaco Carlo Costantini, ieri pomeriggio in Piazza Muzzi c'è stata la presentazione dei candidati che compongono la coalizione a sostegno di Carlo Costantini. Si tratta di Alleanza Verdi-Sinistra, Radici in Comune, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Faremo Grande Pescara e Carlo Costantini sindaco di Pescara. Sono 153 nel complesso i candidati, una squadra fatta di 75 donne e 78 uomini. Tutti hanno dovuto pagare un prezzo in questi cinque anni, ha dichiarato Carlo Costantini. I commercianti sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, ma anche gli sportivi con la chiusura delle naia di che oggi riaprono solo per finta. Gli automobilisti con le multe, i bambini e le famiglie con i parchi sostituiti dal cemento. I residenti dei quartieri periferici con l'abbandono e l'emarginazione. I pescatori con le imbarcazioni incagliate. Cosa faremo per non ripetere questi errori? Ascolteremo prima di decidere o di fare. Inseriremo nello statuto comunale il principio della partecipazione dei cittadini e delle associazioni. Nessuna decisione sarà mai più presa senza un percorso che parta dal basso. Ascolto e condivisione diventeranno la regola affinché mai più debbano rendersi necessari dei passi indietro. Ad aprire l'iniziativa c'è stato il consigliere regionale Luciano D'Amico, già candidato presidente di regione alle scorse elezioni regionali. Carlo Costantini ha raccontato anche quale sarà la sua idea di nuova pescara attraverso la capacità di rinnovarsi e di connettersi con il futuro. Si è parlato anche degli autovelox dei colli, delle multe e semafori, del progetto di Viale Marconi. Sul distretto Food and Beverage di Piazza Muzzi per Costantini si è alimentata una contrapposizione tra residenti ed esercenti per meri fini di speculazione politica che rischia di produrre la desertificazione commerciale. E' possibile convivere con il confronto per ricostruire un'alleanza tra residenti ed esercenti, ha detto Costantini, perché gli esercizi commerciali presidiano il territorio, valorizzano gli immobili, rendono attrattiva la città. Veniamo da cinque anni difficili ma vi assicuro che riapriremo pescara alla bellezza, al commercio, al turismo, ai diritti agli anziani e alle persone con disabilità. E bastano due giorni, l'8 e il 9 giugno, ha concluso Carlo Costantini, per cambiare davvero pescara.